Da Apple FaceTime alle nuove mappe, tutte le novità in arrivo con iOS 15 raccontate in due minuti. Apple ha appena appena annunciato gli ultimi aggiornamenti del prossimo sistema operativo e in particolare della FaceTime, rendendola di fatto un competitor delle altre aziende leader di settore videochiamate come Zoom e Teams, app che fino a due anni fa non pensavamo avremmo mai usato in vita. Migliorano le prestazioni video e audio, effetto ritratto per chi parla ma anche l'isolamento della voce per ridurre al minimo i rumori di fondo grazie al machine learning, ma la vera novità è che sarà possibile condividere un link della chiamata di gruppo, come Zoom, Teams, simili appunto, per far partecipare altri utenti alla video call. E non è necessario avere un iPhone, perché la videochiamata sarà fruibile via browser, come già avviene per il comodissimo Google Meet, per capirci e per fare un esempio, anche da Android e Windows e manterrà la criptografia end to end, ovvero saremo al sicuro da occhi indiscreti. Ma la cosa a mio avviso più sbalorditiva è che con il nuovo FaceTime sarà possibile condividere anche ciò che si sta guardando, tipo un video o un film per vederlo in perfetta sincronizzazione con gli amici, in una funzione che prende il nome di ShareTime. In aggiunta alle mappe migliorate e alla privacy sempre più tutelata, Apple sta facendo grandi passi per rendere il suo ecosistema non solo semplificato, ma anche molto sicuro e condiviso, aprendosi anche ad altre piattaforme. Rock'n'Roll